Io non so veramente chi l'ha fatto l'autore di questa cosa, soltanto che sono diversi anni che io ho un dipinto di questa Fabiola sopra il letto è fatta da un amico di mio marito, è un'immagine che a me è sempre piaciuta e quindi ho voluto in qualche modo, cerco in qualche modo di poterla anche realizzare Speriamo Questa lui l'aveva fatta a tempera, questo ragazzo, questo amico di mio marito, l'aveva fatta con la tempera questa Fabiola E' un'immagine che a me è rimasta sempre piaciuta Il professore mi ha dato l'ok di poterla fare, quindi speriamo bene alla fine